È molto importante ora che l'uso del corallo, in particolare quello rosso e rosa, sia controllato, sia regolato, non necessariamente vietato. E non credo che la CITES non vogliamo con l'appendice 2 vietare l'uso del corallo, però vogliamo controllare l'uso. A questo punto troppo corallo è preso dal mare, è importato dall'Asia e dall'Italia e dobbiamo trovare altri materiali, esprimere quel desiderio, quell'affetto, quell'amore per corallo.